Milani, primi giorni di lavoro, intanto come vanno le cose? Penso molto bene, alla fine mi sto trovando molto bene con il gruppo, il mister è molto esigente, ci dà molto la mano e comunque anche se il clima è molto caldo ci stiamo andando al meglio. Molti hanno notato le tue prestazioni soprattutto in quel Ponte della Pescara lo scorso anno dove hai fatto a Fette la difesa del Pescara, hai anche segnato l'assist, è stato un modo per scoprire le tue capacità, che ricordi hai di quella partita? Sì, sicuramente è stata una partita che ha segnato molto, partivo dalla panchina e ho voluto dimostrare quello che valevo, peccato che ritorno ero squalificato per venire allo stadio, comunque sì sono contento e sono contento di essere qua. Come è nata la trattativa? Penso che successivamente a degli sviluppi intorno a quel di Ponte d'Era, appena ho saputo della notizia del Pescara non ci ho pensato due minuti a venire. Ecco, le tue caratteristiche, sei più un quarto o un quinto, ti puoi adattare a fare entrambi i sistemi insomma? Alla fine nella mia piccola esperienza ho fatto sia il quarto che il quinto, quindi penso che posso adattarmi bene e di poter farlo al meglio. Che momento sarà, che fase è questa della tua carriera? L'approdo poi in una piazza che per la Serie C è una piazza di prestigio? Per me è un onore alla fine perché comunque la storia è grandissima, quella del Pescara e quindi spero di far bene per questa piazza e per questa squadra. L'ultima cosa, chi conosce dell'ambiente o se hai parlato con qualcuno che ti ha detto appunto di Pescara? Ma sinceramente alla fine basta guardare la storia per capire com'è l'ambiente di Pescara e poi come ho detto prima, sin dai primi giorni tutti mi stanno aiutando, mi stanno dando il meglio di loro e quindi sono contentissimo di questo. Veramente l'ultima, Zappa, Bellanova, che sono giocatori del tuo ruolo, sono passati qui recentemente e ora hanno svoltato. Beh speriamo sia di buono speech anche per me.